Una violenta scossa di terremoto si è verificata tra Afghanistan e Pakistan. Un primo bilancio ancora provvisorio parla di almeno 11 morti e un centinaio di feriti. Il sisma è stato avvertito anche nel nord dell'India. L'epicentro del terremoto di magnitudo 7.7 sulla scala Richter è stato localizzato a 196 km di profondità sulla catena montosa dell'Indukush, 260 km a nord di Kabul.